Oggi faremo un super mega prank ad Alessandro Guardate ragazzi sta dormendo Il mio piano è quello di prendere la Nutella E di metterla in quella mano lì E poi dopo sopra la Nutella Ci voglio spruzzare lo spray alla cacca Che è tipo troppo puzzoloso ragazzi Poi dopo prenderemo una matita E andremo vicino alla sua faccia Per fargli solletico Così poi dopo lui sarà costretto a grattarsi la faccia Con la mano tutta puzzolosa di Nutella E cacca Ok raga ci siamo E' arrivato il momento dello spray puzzoloso Spruzziamone poco 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 E' arrivato il momento di svegliarlo Oh ma che non funziona il pet Ti odio Frank riuscito ragazzi